Giuramento dei genitori. Noi genitori di questi bambini oggi ci impegniamo a dimostrare loro che anche qui siamo famiglia che educa. Vogliamo vederli felici, uniti e carichi di voglia di giocare insieme, perché il calcio è gioco. Conso di Ecerzi, quando affermato possiamo dichiarare aperto il decimo torneo Sport Event Trophy 2024 ed esprimiamo l'augurio che nel segno della cavalleria sportiva e del rispetto delle regole la vittoria preme coloro che più degli altri con degnità e onore l'avranno meritata sul campo. In bocca al lupo a tutti e buoni cantimento! In bocca al lupo a tutti e buoni cantimento! In bocca al lupo a tutti e buone cantрамme! Trk sapere, in sizi丈夫 o.se Grfigura che per far. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.